Con grande piacere in questi giorni sono terminati i grandi lavori alla Casa Popolare in Viale Monsignor Lucchi. Siamo uno dei paesi che ha sottoscritto il patto dei sindaci, quindi che vogliamo meno emissioni in atmosfera, che vogliamo un risparmio energetico, che vogliamo dare il nostro contributo all'ambiente per evitare o diminuire quelli che sono già in atto i cambiamenti climatici. È stato fatto un grande cappotto a questa grande casa, sono stati cambiati tutti i serramenti, quindi ci saranno meno emissioni in atmosfera e ci sarà anche un risparmio per gli inquilini, che spenderanno meno di riscaldamento. Anche da un punto di vista estetico, visto che vogliamo essere Berceto, Comune, Unesco, Via Francigena, è molto più bella di prima, è stata tinteggiata. Questa casa, insieme ai dirigenti di Acer, verrà inaugurato, se possiamo dire, questi lavori il 26 di gennaio e sarà anche l'occasione per presentare un programma di sistemazione di tutte le altre case popolari, che va ricordato che Berceto, pur essendo un piccolo comune, ha comunque 44 appartamenti popolari di sua proprietà e gestiti da Acer.